Tra qualche giorno ricorrerà il secondo anniversario da quando, in Siria, è stato rapito Padre Paolo dall'Oglio. Rivolgo un accorato e pensante appello per la liberazione di questo stimato religioso. Non posso dimenticare anche i Vescovi ortodossi rapiti in Siria e tutte le altre persone che nelle zone di conflitto sono state sequestrate. Auspico il rinnovato impegno delle competenti autorità locali e internazionali affinché a questi nostri fratelli venga presto restituita la libertà.